Val di giovane, il Napoli conquista un punto al Diego Armando Maradona che significa primo posto nel girone un'altra squadra italiana, si conquista il pass 3 su 3 in Europa League, 3 su 4 in Champions League se ci penso sono orgoglioso da un lato e dall'altro, non vi dico perché non voglio cadere assolutamente nel volgare parliamo di questa partita qua, parliamo del gol di Piotr, parliamo della prestazione della Sociedad o del Sociedad, come cazzo si dice, non lo so, piccolo abbozzo anche alla partita della Roma e basta però prima scarichiamo l'app OneFootball così rimaniamo aggiornati H24 sulle varie news, classifiche, calendario, sorteggi tutto quello che vi pare, link in descrizione, l'app è gratuita, scaricala e via, semplice sì, sulla Roma è inutile fare un video apposito perché la gara non aveva nulla praticamente da dire già qualificati in prima posizione, praticamente una formalità, è arrivata una sconfitta che non conta una mazza, però mi piace sottolineare comunque il gol del 18enne, la milanese, ma soprattutto l'assist di Borja Majoral che è una roba raffinata, tecnica raffinata quella di Borja Majoral ragazzi miei e quindi va bene così. Per quanto riguarda Napoli-Real Sociedad sarebbe stato, devo dirlo, una vittoria per quello che ci ha detto la gara, immeritata per il Napoli che secondo me da un punto di vista del gioco ha sofferto, ha patito la qualità del Real, chiamiamolo Real, che esprime veramente un gioco bellissimo sì, possesso palla, ma non quel possesso palla sterile, finalizzato poi a verticalizzare in velocità due o tre tocchi e arrivi in porta. Devo dire che questi sottoporta sono un po' scellerati questo sì, ma hanno una mole di gioco importante, mamma mia, ragazzi belli e fossero usciti sarebbe stato assurdo, ecco, se io pensavo a Conte che si lamentava degli arbitragi di quella e di quell'altra, ma poverino in Real Sociedad, giocando benissimo, era veramente quasi fuori ad un certo punto da questa competizione. Assurdo il calcio però, poi alla fine conquistano il pareggio nel finale e via, e via, e via così. Strano vedere gli ultimi tre minuti lì, pura melina, la melina nella sua purezza negli ultimi tre minuti ad aspettare che finisse la partita così, incredibile. D'altro canto però c'è da dire, scusate, c'è da dire che il Napoli seppur in difficoltà, seppur ha subito un pochettino il gioco degli avversari, devo dire che poi ha trovato un gol di rara bellezza, che perla di Tizielis, un giocatore che mi fa innamorare, un giocatore di una qualità eccellente, un giocatore veramente che ha lo strappo, che crea superiorità al numerico e quando è sottoporta non disdegna il tiro. bello, 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 bel gol ed un gol a livello individuale per lui, meritatissimo perché ultimamente sta incidendo e bel, bel gol, bel, 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 bel gol. Poi c'è da dire che comunque, Real o non Real, Sociedad o non Sociedad, il Napoli può comunque recriminare su un episodio cruciale che poi poteva già determinare nel primo tempo comunque le sorti della gara, perché andava espulso lì il difensore, era lanciato, chi era? Lozano, Insigne, non mi ricordo neanche chi cazzo fossi, Mertens addirittura, no, mi sembra, non mi ricordo, comunque lanciato, falciato, creare un'occasione da gol, quella era espulsione, sappiamo che non c'era, non c'è, che non c'era nella fase, non c'era, nella fase a girone il VAR, quindi non si è potuto andare a vedere e si continua, si continua e si continua a giocare, però quello è un episodio che macchia un pochettino l'equilibrio, l'equilibrio arbitrale della gara, diciamo così. Niente, al di là della gara, complimenti al Napoli per il percorso che ha fatto in Europa, in un girone comunque non semplicissimo, passano come primi, tanta roba, tanta 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 roba e bene, 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 perché veramente tante squadre alle fassi finali comunque di questo, di quell'altra competizione ed è un bel slogan per l'Italia, assolutamente sì, quindi avanti, 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 avanti tutta, avanti tutta, andiamo a vedere il Milan e poi andiamo a Nanna, che forse anche ora. Un grande abbraccio, Daneschi.